Via Libera, dalla Giunta Schifani, ha due nomine chiave nell'ambito delle attività produttive. Si tratta di Marcello Gualdani, che diventa commissario straordinario dell'IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, e di Michele Cimino, neocommissario liquidatore Consorzi Asi della Sicilia Occidentale Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Gela. Entrambe le nomine sono state proposte dall'Assessore Regionale per le Attività Produttive, Edita Maio. Le due nomine, commenta l'Assessore, sono il risultato del lavoro del Governo Schifani, per assicurare una soluzione efficace nella direzione dell'azione di semplificazione amministrativa già intrapresa. I due ruoli saranno ricoperti da uomini di mia fiducia, politici di lungo corso, che hanno ricoperto numerosi incarichi amministrativi. Sono convinto che i due nuovi commissari, che saranno supportati da un team di legali ed esperti che collaboreranno a titolo gratuito, faranno un ottimo lavoro contro il malaffare e la corruzione, a favore della trasparenza e della buona amministrazione. Marcello Gualdani, ex commissario straordinario dell'OIACP di Palermo e vicepresidente nazionale della FederCasa, prende il posto di Giovanni Perino, che per anni ha rivestito il ruolo di commissario ad acta. Michele Cimino, avvocato, è stato assessore più volte e attualmente è presidente dell'AMAT, l'azienda municipalizzata per i trasporti di Palermo.